Eccoci qua, bentornati. Oggi ragazzi è un giorno in cui forse iniziamo a rallentare un pochettino dopo questi veramente ultimi momenti di follia perché questa settimana, al di là dell'annuncio di Tiago Motta, ci sono state veramente delle ore folli, folli. Cioè non trovo un'altra definizione se non folli. Abbiamo fatto dirette, video, contenuti, un milione, un milione. Abbiamo speso tantissime parole, c'è stato tanto contributo nei commenti, quindi vi ringrazio. Vi ringrazio per questa cosa e ho fatto una settimana anche folle sempre dal punto di vista vocale perché non avevo assolutamente la possibilità di comunicare al meglio, quindi spero di aver fatto il massimo che potevo offrirvi. Ma dall'altra parte ho visto tante risposte e tanto interessamento, quindi immagino di sì. Oggi è il giorno in cui inizia gli europei però, per questo oggi secondo me iniziamo a rallentare un pochettino. Perché è difficile pensare che nel momento in cui si va in campo o robe del genere i calciatori possono essere interessati anche a ragionare sui club. Ci si penserà a europeo terminato. È sempre stato così, salvo alcuni rari casi, perché comunque abbiamo visto anche dei trasferimenti dentro alle competizioni con le nazionali. Io ho memoria, adesso non so se ho un falso ricordo perché sono passati anni, ma durante il mondiale del 2006 è possibile che o Zaccardo o Barzaglio, addirittura tutti e due avessero firmato l'accessione dal Palermo al Wolfsburg? Guardate, mi è venuto in mente questo dubbio perché mi ricordo una clip in cui firmavano forse addirittura sul paraurti di un'auto il contratto o di rinnovo col Palermo o di cessione al Wolfsburg, una roba del genere. Guardate, scrivetemelo nei commenti ma appena termina il video vado a cercare perché ho questo forse falso ricordo o forse verità legata a quella che è stata una competizione che ricordiamo con affetto, così come ricordiamo con affetto anche ovviamente l'ultima edizione degli europei perché l'Italia è campione in carica e dovrà dimostrarsi all'altezza del titolo che può vantare, anche se vincere è sempre difficile ma confermarsi è ancora più complicato. Eppure, nonostante questo discorso preliminare sul fatto che oggettivamente durante le competizioni ci si concentra un po' di meno sul mercato, attenzione perché c'è un tweet di Nico Schiera proprio di oggi delle 11.20 che dice che la gente di Di Lorenzo e quindi Giuffredi sta volando in Germania vuole guardare il match di Euro 2024 tra Italia e Albania e poi parlerà con il capitano del Napoli che non ha cambiato i suoi piani, vuole lasciare. La Juventus è in pole, se il Napoli accetterà di venderlo la Juve è pronta a fargli firmare un contratto fino al 2028, oppure se ne è per il 2029. Calmi, calmi, perché Di Lorenzo in questo momento ha un contratto col Napoli fino al 2028 che è un contratto lungo, sono altri 4 anni, quindi è un contratto importante. C'è una vera e propria guerra fredda dentro al Napoli lato Di Lorenzo perché appunto è un giocatore che ha rinnovato di recente, è il capitano, è un giocatore simbolo, è un giocatore che ha un contratto lungo ma vuole lasciare. Tra l'altro la pretendente è proprio la Juventus che a Napoli viene vista come la rivale storica quindi non sarebbe proprio nemmeno un trasferimento di quelli morbidi. Io apprezzo Di Lorenzo, sono sincero è un giocatore che mi piace e che mi piacerebbe anche avere la Juve perché dal punto di vista dei terzini noi siamo disorganizzati. Però è un calciatore che vado a prendere soltanto se ho la possibilità di fare veramente il colpaccio, se no faccio tranquillamente senza, ma non perché non ne riconosca il valore lo ripeto, è un calciatore che mi piace. Però stiamo parlando di un calciatore che in questo momento è ai ferri corti con la sua squadra. Quindi, tra virgolette, deve diventare un'opportunità la possibile eccessione di Lorenzo da parte del Napoli. Cioè la Juve non deve diventare la soluzione per un problema del Napoli. Questo deve essere ben chiaro. Io capisco che Giuntola abbia un buon rapporto con il ragazzo, capisco che Tego Motta possa apprezzarlo dal punto di vista sportivo, ma stiamo parlando di un classe 1993. Fare un contratto di 4 anni più opzione per il quinto o 1993, lo dico contro il mio interesse che sono 92, però bisogna pensarci un attimino perché è ovvio che si inizierà a entrare nella parte discendente della carriera e quindi di Lorenzo magari avanzerà anche delle richieste economiche importanti perché si sente un calciatore importante e farglielo firmare per 4 anni potrebbe poi diventare qualcosa di un po' più complicato per la Juve. Quindi pensiamoci attentamente, cioè se diventa un'opportunità perché il Napoli lo vuole vendere, lo deve vendere, allora mi va bene. Se dobbiamo andare ad accontentare il Napoli che si toglie un problema e accontentare lo stesso di Lorenzo che ha un contratto fino al 2028 con il Napoli e quindi vorrebbe la stessa cosa con la Juve più addirittura l'opzione per il 29. Ci vado un po' più con i piedi di piombo perché non è un problema nostro, cioè di Terzini comunque poi il mercato non dico che ne sia pieno però si può lavorare a maggior ragione uno come Giuntoli che è sempre stato bravo ad andare a scovare anche dei giocatori interessanti a un prezzo magari accessibile, giocatori che non hanno ancora il nome, non sono ancora popolari, famosi e che possono anche rendere di più in prospettiva. Di Lorenzo deve essere un colpo che se arriva bene se no non ci strappiamo i capelli. Ecco io questa è la grande premessa che faccio a trattativa di Lorenzo perché non vorrei mai ritrovarmi ad essere la parte che non solo accontenta il giocatore, non solo accontenta il Napoli ma poi deve anche andare a rimetterci. No, questa cosa non deve essere così. E dato che abbiamo parlato appunto di di Lorenzo e quindi di Napoli ma anche della nazionale italiana e degli europei c'è sul sito di Gianluca Di Marzio la probabile formazione di quella che sarà Italia-Albania, la prima partita del girone. Vado a leggervi la formazione dell'Italia, un 4-2-3-1 con Donna Roma in porta che sarà il capitano. Di Lorenzo appunto come terzino di destra per evidenziare, sottolineare come sarà lui comunque per il momento almeno perché poi c'è sempre Cambiaso che scalpita secondo me può diventare una possibilità. Il titolare per la fascia destra Calafiori e bastoni coppie centrali e Di Marco terzino sinistro con Cambiaso a destra al posto di Di Lorenzo avremo una retroguardia composta da quattro quarti di difensori Mancini. Sarebbe veramente molto curioso perché Calafiori è di piede sinistro, Bastoni è di piede sinistro, Di Marco è di piede sinistro, Cambiaso è di piede sinistro anche se in realtà è ambidestro quindi panchiniamo Di Lorenzo per Cambiaso, voglio vedere questa retroguardia di tutti i Mancini. E poi abbiamo tra l'altro Mancini che era commissario tecnico dell'Europa e ho vinto Giorginio e Barella davanti alla difesa, un po' particolare come mediana 2 ma c'è anche Frattesi che agirà praticamente da trequartista nel 4-2-3-1 e che quindi andrà ad aiutare quasi in fase di non possesso a formare una mediana 3. Mi sorprendono gli esterni perché sono Chiesana a parte e Pellegrini dall'altra, quindi Pellegrini che andrà a fare esterno o Frattesi o uno dei due perché comunque uno giocherà per vie centrali e l'altro un po' più esterno, immagino Pellegrini spostato sulla sinistra e Chiesa a destra o viceversa quindi Chiesa a sinistra e Pellegrini spostato sulla destra, qualcosa del genere e questo tridente arriverà alle spalle di Gianluca Scamacca che è il centravanti titolare in questo momento della Nazionale perché viene da una stagione in quale la seconda parte è veramente esploso, quindi Reteghi per il momento si siede in panchina e ci sono tanti giocatori che in chiave nazionale possano diventare dei colpi importanti per la Serie A e che i club di Serie A come magari il Genoa sperano di poter vedere un buon europeo da parte di Reteghi per poi riceverlo dato che ha tanto mercato interno in Italia, però oggi gioca Scamacca, anzi domani giocherà Scamacca, credo che sia anche la scelta corretta. È una formazione un po' particolare, devo dire la verità perché io sono d'accordo che sia giusto giocare con la difesa A4 per l'Italia, però tutti questi giocatori bene o male giocano con la difesa A3 nel club, quindi sono dell'idea che sarebbe interessante vedere questa formazione che vi ho elencato, questo 4-2-3-1 con Di Lorenzo che da terzino destro stringeva a formare il terzo, quindi praticamente il braccetto di destra la difesa A3 con Bastoni e Calafiori che diventano gli altri due centrali della difesa A3, Di Marco che si alza sulla sinistra, Chiesa che si allarga sulla destra, Giorginio, Barella e Frattesi che diventano i tre centrocampisti e Pellegrini alle spalle di Scamacca, quando si attacca si attacca con tre difensori praticamente per usare un uomo in più in fase offensiva o ancora meglio se vogliamo, dato che abbiamo visto che ci tiene Spalletti ad avere quei due uomini dietro alla punta, potrebbero essere appunto Pellegrini e Frattesi entrambi dietro Scamacca quindi gli esterni sarebbero Chiese Di Marco, Giorginio e Barella in cabina di regia e gli altri tre dietro, quella secondo me sarebbe la soluzione migliore per l'Italia, chissà che Spalletti non stia davvero cucinando questa opzione che qualche mese fa avevo anche analizzato, avevo cercato di condividere insieme agli amici di doppio passo di BoboTV, era stata un'opzione abbastanza bocciata, però ripeto per me quella è la soluzione migliore per gli uomini che ha a disposizione Spalletti, quindi un'Italia che se un 4-1-3-1 ma che quando attacca imposta tre da dietro per avere la possibilità di sganciare un ulteriore giocatore. Calafiori che è stato in extremis tra quelli che addirittura non era mai stato convocato perché era nazionale under 21 eccetera eccetera, diventa un titolare della nazionale, anche qui credo ha ragione, credo che sia giusto così e quindi vediamo quelle che saranno le imprese dell'Italia all'interno di questo europeo, la partita con l'Albania credo che sia già decisiva perché poi Spagna e Croazia sono squadre toste da andare a affrontare. Io ho fatto il pronostico dei miei europei, c'è un video sul canale di Sick Wolf in cui vado a pronosticare tutto l'europeo, quindi se siete interessati andatevelo a vedere così potete prendermi anche un po' in giro perché non ne becherò neanche una, ho pronosticato tutto il tabellone quindi anche la semifinale, la finale, la finale, la vincente e tutto quanto fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste tematiche soprattutto sul nodo legato a Di Lorenzo che per me è un calciatore che si può fare sì, però non deve diventare un'ossessione, non voglio assolutamente che Di Lorenzo diventi un'ossessione. Ciao a tutti!